Primo gol in campionato, sei stato lesto a approfittare di un errore di portiere e difensoria? Sì, era arrivato su un loro errore, diciamo che è arrivato anche in un momento della partita dove stavamo soffrendo particolarmente perché eravamo già in dieci, infatti questa espulsione ci ha un po' compromesso la partita, diciamo, e siamo riusciti a trovare questo gol, ripeto, sul loro errore, dovevamo essere più cattivi forse alla fine a tenerci stretto questo risultato che sarebbe stato importantissimo per come si era messa la partita, anche perché dispiace che aver preso l'1-1 proprio a cinque minuti dalla fine dopo che avevamo fatto praticamente 40 minuti in inferiorità numerica, però va bene, avrei preferito vincere la partita e non fare gol, però va bene così lo stesso. Vedi chi è qualcuno a questo primo gol in campionato della Sagremese? Sicuramente i miei genitori che stanno lontani da me, anche se stanno in Sardegna, mi seguono sempre, mi sono sempre vicini, poi i miei compagni, il ministro, la società, sono cose banali. Adesso si va avanti, martedì si riprende con gli allenamenti, pensiamo alla partita di domenica prossima.